Tra poco Sul canale 17 di Fano TV l'informazione locale La festa di Santa Barbara, la patrona dei marinai e dei vigili del fuoco, festeggiata anche a Fano e Pesaro Mondolfo, presentato il calendario degli eventi, in programma per il prossimo Natale Un cordiale saluto dalla redazione C'è stata una rapina, una tentata rapina lunedì sera Durante l'orario di chiusura di un supermercato in pieno centro storico a Fano Tutti i dettagli nel servizio di Lino Balestra Sembrava essere un fine giornata di intenso lavoro come spesso accade In questo periodo al punto Simpli di via Marino-Froncini a 20 passi da piazza 20 Settembre a Fano Invece lunedì sera, dopo la chiusura, qualcosa di inaspettato ha stravolto la serata Un rapinatore armato e con il volto travisato da un passamontagna Ha tentato di impossessarsi di una sacca dove secondo lui era costudito l'incasso dell'intera giornata Tutto è accaduto in una manciata di secondi Attorno alle 21, un addetto del negozio è uscito dalla porta di servizio del supermercato Che dà su via Froncini con una sacca E si è trovato di fronte il rapinatore che ha tentato di impossessarsi della borsa Ma a quel punto, nella mente dell'addetto del Simpli, è scattato qualcosa Una reazione di stinto, fulminea, che ha colto di sorpresa il bandito Per difendere ciò che in quel momento riteneva vitale Ha incominciato ad urlare, ha tentato di disarmare il ladro Ne è scaturita una colluttazione La pistola, vera o giocattolo, non è dato saperlo, è caduta a terra E le grida hanno attirato anche l'attenzione dei vicini Che dalle finestre assistevano a quanto stava accadendo in strada E hanno chiamato il 112 Nel frattempo, vista la malparata e la reazione inaspettata del proprietario della borsa Il rapinatore raccoglie l'arma da terra e si dà la fuga in direzione della piazza Facendo perdere le sue tracce Per i carabinieri del nucleo investigativo e radiomobile di Fano Arrivati sul posto, coordinati dal capitano Papale E' scattata subito la caccia all'uomo E hanno setacciato la città alla ricerca del ladro Con una descrizione sommaria del suo aspetto Data dai testimoni, ma di lui nessuna traccia Ora, le indagini dei militari dell'arma sono orientate Verso ogni ambiente nel quale può gravitare Questo rapinatore solitario e anche un po' maldestro Per risalire alla sua identità Anche attraverso le immagini di alcune telecamere di videosorveglianza Sparse nella zona del centro Il mistero del corpo mummificato Ritrovato all'interno di una cassa di zinco All'interno della chiesa di Santa Maria Nuova Il mistero è stato risolto Oggi questa cassa è stata aperta Il corpo mummificato è del beato Antonio da Fano Un frate francescano morto nel 1435 Oggi è stato risolto il mistero su di chi fossero i resti mortali Contenuti nella casa di zinco rinvenuta durante i lavori All'ex convento dei frati minori a Santa Maria Nuova Dopo la segnalazione di padre Silvano Bracci Nell'intercapedine ricavata in quello che era il vecchio passaggio Tra gli alloggi del convento e la chiesa Beato Antonio da Fano morto nel 1435 Si legge sulla targhetta sopra la cassa in zinco Che conteneva i resti del frate La cassa è arrivata al cimitero dell'Ulivo Scortata dalla polizia locale Dopo che era stata prelevata dal cantiere In via da Serravalle Poco dopo le nove di questa mattina Ricognizione cadaverica blindata Venuta dopo il dissequestro Chiesto dal comune di Fano Proprietario della chiesa Dove era stata collocata la bara nel 1959 A seguito di importanti lavori di ristrutturazione Le operazioni sulla casa sono durate un paio di ore Ed è stata aperta nei locali del cimitero dell'Ulivo Per consentire le attività svolte dal medico legale Nominato dal tribunale di Pesaro Che aveva avviato subito le indagini Coadiuvato da tecnici E dalla presenza dei militari Del nucleo tutela patrimonio culturale Dei carabinieri di Ancona Sono stati ammessi a partecipare Per il comune di Fano Il vice sindaco Cristian Fanesi Ed il dirigente Adriano Giangolini Ora si attendono i risultati di laboratorio Coperti però dal segreto istruttorio Ma è pressoché certo che appartengono al corpo del Beato Avvalorando così quanto detto e documentato da padre Silvano Bracci Il quale afferma che la bara in zinco Con la targhetta identificativa È stata fornita dalla ditta di pompe funebri Tonelli di Pesaro Che in via da Serravalle Aveva all'epoca un deposito di feretri Proprio di fronte alla porta del convento E pertanto il percorso da fare è stato molto breve La salma a momento resta comunque nella disponibilità della magistratura Che sta continuando nelle sue indagini Ora svelato il mistero dell'identità Si aprono però diversi scenari sul futuro dei resti del Beato Una volta che la salma verrà restituita all'ordine dei frati minori Con i quali il comune cercherà una mediazione Su dove ricoverarla E in che modo poterla restituire al culto dei fedeli Anche su questo padre Silvano Bracci Che oggi si è preso una bella rivincita Nei riguardi di chi esprimiva forte scetticismo Sull'identità della mummia Auspica che il Beato rimanga Dove ha sempre prestato la sua opera Ovvero affano Chiudiamo? Si aprono spiragli positivi Per gli 85 dipendenti Dell'azienda Berloni Messe in liquidazione dalla proprietà La società Berloni Group SRL Fa sapere che nella giornata di lunedì scorso Il liquidatore Alessandro Meloncelli E il suo staff Hanno iniziato il lavoro di analisi e valutazione dell'azienda Meloncelli ha incontrato Inoltre le autorità locali Per verificare con il sindaco di Pesaro Matteo Ricci Tutte le possibilità di azione istituzionale Anche a livello ministeriale Per una continua operatività dell'azienda E per salvaguardare i posti di lavoro Dei dipendenti E naturalmente anche i clienti e fornitori Inoltre negli incontri avvenuti con i rappresentanti sindacali Le maestranze e il management dell'azienda Il liquidatore ha confermato che esiste La possibilità molto concreta Di un potenziale investitore Che potrebbe risolvere le immediate necessità di cassa E valutare un progetto di ristrutturazione E rilancio dell'azienda E adesso invece parliamo Della questione Dell'istituto scolastico Nolfi L'istituto che come ricorderete È stato chiuso All'inizio di settembre Pochi giorni prima dell'inizio del nuovo anno scolastico A causa di mancato permesso di agibilità E allora il Movimento 5 Stelle di Fano Torna alla carica In qualche modo cerca di non abbassare la guardia E chiede adesso Che vengano prese soluzioni rapide Per risolvere i problemi Agli studenti e agli insegnanti Noi abbiamo presentato una mozione Proprio per fare in modo Che il sindaco si faccia garante Del fatto che questo tavolo Assuma un carattere permanente Per affrontare in maniera organica Seria e completa La situazione emergenziale Sia nella sua fase transitoria Sia diciamo nella sua risoluzione definitiva Noi ci aspettiamo innanzitutto Che il nostro sindaco Diciamo recuperi un ruolo più attivo Nei confronti della provincia Perché abbiamo visto che il sindaco di Urbino Gambini Ha ottenuto l'acquisto Da parte della provincia Di un edificio In cui temporaneamente Saranno sistemati Gli alunni del liceo Raffaello Mentre ancora per Fano Insomma non si vede la luce In fondo al tunnel Quindi noi Auspichiamo appunto La presenza del nostro sindaco Dall'amministrazione comunale A questo tavolo Ma soprattutto questo tavolo Dovrà essere convocato In maniera regolare In futuro Vedendo sempre La presenza Deliceo Nolfi Oltre a chiedere al sindaco Insomma di valutare In maniera approfondita La possibilità di concedere Immobili O terreni Insomma Per trovare una soluzione Transitoria Sollecitiamo anche il sindaco A fare chiarezza A questo tavolo Con la provincia Del fatto Di quei fatti Insomma che erano emersi Durante la nostra conferenza stampa Cioè Già nel 2010 Alla provincia Era stato chiesto Per ottenere La certificazione Di donità statica Di svolgere Ulteriori approfondimenti Questa cosa Purtroppo per nove anni Non è stata fatta Neppure dopo il terremoto Del 2016 In base alla documentazione Che abbiamo ricevuto Quindi Io credo che gli studenti I professori I genitori degli studenti Ma in generale La cittadinanza Meritino Di sapere la verità Oggi in tutta Italia È stata celebrata La patrona Dei marinai E dei vigili del fuoco Santa Barbara Noi abbiamo seguito Le celebrazioni Di Pesaro E Fano Oggi 4 dicembre Santa Barbara Patrona Dei vigili del fuoco E anche Della marina militare Barbara Martire cristiana Sottoposta Al supplizio del fuoco È particolarmente Invocata Contro la morte improvvisa E quindi Gli artificieri Gli artiglieri Carpentieri E i minatori Fu prescelta Perché rappresenta La serenità Del sacrificio Di fronte al pericolo Senza possibilità Di evitarlo E fu eletta A patrona Di coloro Che si trovano In pericolo Di morte improvvisa Come anche i marinai E pertanto Confermata nel ruolo Dalla regia marina Nel 1861 La ricorrenza Molto sentita Dalla forza armata Viene celebrata Ogni anno Sia a bordo Che a terra Con una funzione Religiosa Alla quale Partecipano Congiuntamente Anche i colleghi Del corpo Dei vigili del fuoco Nella nostra provincia Cerimonie Con deposizione Di corone Dalloro Sia a Fano Che a Pesaro Dove la cerimonia Pubblica E seguita Anche a quella Religiosa A Pesaro Sono stati I vertici provinciali Dei due corpi A presenziare Alle fasi Del rituale Iniziato Alle 9.30 Di mattina Noi ci affidiamo Alla Santa Barbara Proprio per avere Una sorta di protezione Durante il quotidiano Lavoro che svolgiamo Ed è anche un modo Però per incontrare La cittadinanza Le altre autorità E le famiglie Questi sei mesi Che sono Qui a comando Il fuoco di Pesaro Urbino Ho avuto modo Di apprezzare Tutto il personale Del comando Personale che si dedica All'attività istituzionale Cerca di fare il meglio Con le risorse A disposizione E in questi sei mesi Sono stato molto attento Molto studiato Le esigenze Del comando E anche del territorio E penso di aver individuato Delle linee Di indirizzo Che mi consentiranno Di avere un piano di azione Nei prossimi mesi Anche a Fano Cerimonia iniziata Con la deposizione Della corona di alloro In memoria Di tutti i caduti del mare E la seguente preghiera Del marinaio Eseguita Da un socio Dell'Associazione Nazionale Marinai d'Italia Davanti al monumento Del marofanese Filippo Montesi A loro Diciamo Va il mio pensiero Ai colleghi Che sono impegnati In mare Nel canale di Sicilia Per la situazione migratoria Per fronteggiarla Per i vigili del fuoco Della provincia di Pesaro Urbino L'anno che sta per finire Conferma Numeri Sempre di grande impegno Ed edizione Al lavoro Che si attestano Su oltre 6.000 interventi Di cui 900 per incendi 360 incidenti Stradali 530 fra soccorsi Salvataggi a persone O animali E 116 casi Di dissesto E verifiche Della staticità 90 casi poi Sono i danni Dovuti all'acqua Ma anche Un momento Per ricordare I colleghi Recentemente scomparsi Durante l'adempimento Del loro dovere Oggi è una giornata In cui Cerchiamo di Confermare L'impegno E la volontà E la motivazione Che ci spinge Ad andare In questi luoghi Insomma Portare soccorso Alle persone Santa Barbara La festeggiamo Anche perché Visto il nostro lavoro Pensiamo che Una Una mano Da parte di Santa Barbara Sia sempre Ben accetto Agenti del Commissariato di Polizia Di San Benedetto Del Tronto Hanno denunciato A piede libero Due fratelli Di nazionalità Albanese Di 17 19 anni Da tempo Residenti in Riviera Nella stanza Da letto Sono stati Rinvenuti Diversi involucri Di marijuana Anche A Mondolfo Così come A Marotta Sono pronti Tutti pronti Per dare il via Al calendario Di eventi Per il prossimo Natale Questa settimana Entriamo nel vivo Delle manifestazioni Legate al Natale In tutta la provincia Nella sala consigliare È stato presentato Il calendario Degli eventi Di Mondolfo E Marotta Firmato Dalle proloco In sinergia Con l'amministrazione Comunale E le associazioni Del territorio Una formula Vincente Che ad ogni edizione Consente di arricchire L'offerta Degli eventi Al contempo Come ha detto In apertura Di presentazione Il sindaco Nicola Barbieri Di promuovere Il territorio In ogni momento Dell'anno Ci fa davvero Piacere Perché questo È un momento Non solo Per richiamare L'attenzione Sul Natale Ma anche Per promuovere Tutto il nostro Territorio Quindi Davvero Ci fa piacere Ci crediamo E continueremo Sempre di più Ad organizzare Eventi e iniziative In questo periodo Si inizia sabato 7 dicembre A Marotta In piazza dell'unificazione Con insieme Sotto un unico Albero di Natale Organizzato Dalla proloco In collaborazione Con l'associazione Malarupta Quest'anno Durante l'evento Natalizio Si festeggerà Anche l'unificazione Di Marotta Saranno presenti Anche le scuole Che si esibiranno In piccoli concerti A cui faranno Da eco Spettacoli di magia E animazione D'eccezione Il Natale È una festa Per le famiglie Quindi noi abbiamo Organizzato Il 7 di dicembre Insieme Alla proloco Di Marotta E al comitato Pro Marotta Unita Una grande festa Per le famiglie Quindi Dalle 15 10 e 30 In piazza Di unificazione Ci saranno Tanti eventi Legati ai bambini Con musica Con canti E poi La censione Dell'albero di Natale Che è il simbolo Del punto del Natale Si prosegue A Mondolfo Lotto Il 15 dicembre Con il Natale Più bello Del borgo Più bello Evento Collaudato Organizzato Dalla proloco Tre colli Con Avis Archeoclub E il sostegno Dei commercianti Locali Nel cuore Del centro storico Con spettacoli Dal vivo Mercatini artisti Concerti Grazie anche Al corpo bandistico Santa Cecilia E gli occhi Puntati sulla famosa Corsa dei Birocini Che da quest'anno Diventa anche social Birocini Vengono visti un po' Come la caratteristica Dei nostri mercatini Che portano Veramente tantissime persone Del nostro comune Ma anche Dei comuni limitrofi Ma fino anche A Gubbio A partecipare A questa gara Che è veramente Molto sentita Molto divertente Molto curiosa Così come si riviverà L'emozione Del presepe Paese Il presepe Vivente Per le vie Del borgo Il 26 e il 29 Dicembre Organizzato dalla Parrocchia di Santa Giustina Ma il Natale 2019 Si caratterizzerà Anche per Luminarie L'accensione Degli alberi Di Natale E una collaborazione Con la Proloco Di Urbania Le Befane Più famose D'Italia Sfileranno a Mondolfo Mentre i Biroccini Il 6 gennaio Faranno Bella mostra Ad Urbania Impegno quindi Di Comune E delle Proloco E delle associazioni A far sì Che ogni anno Si migliori L'immagine del territorio Ed offrire Eventi di qualità Dove La magia del Natale Si sposa Con la storia La cultura E la tradizione locale Lunedì prossimo In diretta Qui su Fano TV Torna Primo Cittadino Ospite Sarà il sindaco Di Fano Massimo Seri Per intervenire In diretta Vedete i numeri Di telefono Dove Tra l'altro Potete Mandare anche Messaggi Brevi di testo Al 338 49 68 250 Anche utilizzando L'applicazione Whatsapp Dopo di noi C'è Il tempo Con le previsioni E poi la pubblicità E torna Uno speciale Dedicato al Natale Quello Che riguarda Fano Natale Più Che si è tenuto Con l'accensione Dell'albero Qualche giorno fa Grazie per averci seguito Noi ci vediamo Domani mattina Alle 7 In diretta Con la Rassegna Stampa Arrivederci Grazie a tutti Ciao